In una società civile e moderna è importante riconoscere ed essere consapevoli del trauma della violenza sulle donne. In piena pandemia, da coronavirus, dove purtroppo oggi ci troviamo, quella femminile diventa un'emergenza nell'emergenza. Non giustificare e non giustifichiamo la violenza. Diciamo alle donne di denunciare, di rivolgersi ai centri di violenza, agli sportelli, di non arrendersi e di combattere questo fenomeno tutte insieme. Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre non è solo oggi, ma deve essere tutti i giorni dell'anno. Grazie 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 Grazie